Mi sono sentito molto spesso come un grande albergo, con tante tante stanze dentro, a volte deserte, a volte super popolate, bassa e alta stagione. E la chiave, non si può sempre dare la chiave, bisogna stare un pochino accorti a non sbagliare nella scelta della clientela, tu sai? Seduta qui, vicino a me, ed una sigaretta viene, e un'altra pan, nervoso o no, soltanto un po', quel tanto che precedi i nostri incontri, e dopo passerà. Un bacio e tu, ritorni tu, e l'auto va negli occhi tuoi. Case d'alberi si inseguono ma, ma ci siamo ormai, noi due, noi due. E il nostro solito rifugio, in quel motel, una stanza buia per vivere. Qui, siamo entrati così, siamo usciti così, come due, senza nome. Qui, qui, ci accorgiamo che ormai, c'è qualcosa di noi, un motivo per vivere. Noi due, noi due, noi due, un corpo e un'anima prodati in quel motel. Due due, due lenzuola stinte, e un letto che, sono broccati argento, quando stai con me, qui. Qui, qui, ci accorgiamo che ormai, c'è qualcosa di noi, un motivo per vivere. Noi due, noi due, noi due, un corpo e un'anima prodati in quel motel. Due due, due lenzuola stinte, e un letto che, sono broccati argento, quando stai con me, qui. Grazie a tutti